Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria della regina Elisabetta. Alcuni la conoscono per la sua collezione di cappellini stravaganti, iperimitati e ipercriticati. Altri invece per il suo classico cenno della mano, che è divenuto icona e simbolo del saluto regale. Ma dobbiamo anche sapere che è stata la donna più potente del mondo, nonché la sovrana più longeva della storia britannica. Contiamo 15 regni di Commonwealth per un totale di 70 anni di regno. Ha collaborato con 14 primi ministri e ha incontrato 13 presidenti USA ed ha anche conosciuto i Beatles. Tra le sue imprese da adolescente ha guidato le ambulanze e ha fatto il meccanico durante la guerra mondiale. E curiosità delle curiosità è stata anche la regina a viaggiare di più in assoluto, ovvero 110 paesi diversi. Tanto da essere soprannominata la regina da un milione di miglia. Nonostante questo però ha sempre regnato con serietà autocontrollo e capacità diplomatica, con la giusta riservatezza. Sia ai colpi inflitti alla sua famiglia reale, sia alle crisi economiche e politiche del paese che governava. Non cedendo mai di fronte alla difficoltà, nemmeno dinnanzi alla morte del marito. Vediamo come ha fatto. E' il 21 aprile 1926. Elisabetta Alexandra Mary Winstor nasce a Londra. E' figlia del duca e della duchessa di York, ovvero il futuro re Giorgio VI e la regina Elisabetta, poi conosciuta come regina madre. Quando nasce esiste ancora l'impero britannico. E proprio nell'anno in cui nasce, ovvero nel 1926, viene trasformato in Commonwealth. Certo, la regina Elisabetta appena nasce non è destinata alla corona, non ci si immaginava nemmeno che sarebbe stata la regina. Finché nel 1936, quando lei aveva 10 anni, lo zio Edoardo VIII abdica per sposare Wallis Simpson, americana con la quale è una grande storia d'amore per la quale lascia il trono. Così il padre di Elisabetta diventa re Giorgio VI. Nel 1939, Elisabetta ha 13 anni e già si dice apertamente innamorata di Filippo, che aveva visto per la prima volta nel 1934. Nel 1940, Elisabetta fa il suo primo annuncio radiofonico alla BBC, nel programma Children's Hour. E parla proprio ad altri bambini che sono evacuati come lei per dare un messaggio di incoraggiamento. Tra il 1940 e il 1945, durante il conflitto, la giovanissima principessa esprime il desiderio di arruolarsi. Ebbene sì ragazzi, una volta le regine, le principesse, non è che si arruolavano, avevano magari dei gradi nell'esercito, ma certo non andavano in guerra. Invece lei presterà servizio di ausilio e di emergenza come secondo ufficiale di primo soccorso e anche, prestate bene attenzione, come meccanico onorario. Infatti lei guida proprio le ambulanze e fa il meccanico nel service che appunto aggiusta i veicoli. E questo già ci fa vedere Elisabetta come era da giovane. Lei serviva il suo paese con dedizione e ne contribuisce chiaramente a aumentare l'amore che il paese ha per lei. Nel 1947 finisce la guerra e annuncia il fidanzamento con Filippo. Infatti nel 1947, sempre, Elisabetta sposa Filippo di Grecia e Danimarca, noto come Duca di Edimburgo. Le nozze vengono trasmesse in tv a 200 milioni di persone. Nel 1948 a 22 anni diventa mamma di Carlo, principe di Galles, mentre nel 1950 a 24 anni nasce la secondogenita, la principessa Anna. Così nel 1952, a 26 anni, Elisabetta e Filippo partono per un lungo viaggio nei paesi del Commonwealth. In questo periodo il padre Edoardo è già ammalato. La notizia della sua morte viene comunicata poi a Elisabetta mentre si troverà in Kenya, da cui ovviamente rientrerà immediatamente. Infatti è il 1952 dove Re Giorgio VI muore d'infarto. Re Giorgio era, si sa, già ammalato di un grave tumore ai polmoni, fumava come un turco e non aveva di certo uno stile di vita sano. E come avviene in tutte le successioni, Elisabetta, da questa morte, diventa automaticamente regina del Regno Unito, ovviamente anche degli altri domini della comunità delle nazioni, ovvero il Commonwealth. Sceglierà di mantenere il suo nome. Difatti è prassi che prima di ogni incoronazione si possa scegliere di mantenere il proprio nome oppure scegliere un nome regale differente. Chiaramente è un momento particolare per la regina Elisabetta, appena morto il padre, lei ne soffrirà molto di questa cosa, ma sta anche per ricoprire il ruolo più importante della nazione, ovvero essere la regina. Così arriva il 2 giugno del 1953. Elisabetta ha 27 anni e diventa regina di Inghilterra. Pensate che sarà la prima incoronazione al mondo ripresa dalla televisione. 27 milioni di persone nel Regno Unito guarderanno l'evento e in radio 11 milioni di persone lo ascolteranno. A livello mondiale parteciperanno circa 277 milioni di persone. Certo, la regina era brava a comunicare e anche ovviamente a fare marketing. E se vuoi diventare bravo almeno quanto lei, iscriviti ad Accademia Kama, dove potrai diventare un digital marketer e social media manager in sei mesi senza l'obbligo di presenza. Trovi il link in descrizione. Siamo nel 1960. Nasce il terzo genito, il principe Andrea, duca di York. E nel 1964 nasce il quarto genito, il principe Edoardo, conte di Wessex. Nel 1965 invece la regina Elisabetta incontra i Beatles e questo durante una cerimonia di investitura, la cosiddetta NBA, ovvero Member of the Order of the British Empire, a Buckingham Palace ovviamente. A John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr viene ufficialmente riconosciuto il contributo significativo ed unico della storia della musica della cultura britannica. Ed è un incontro significativo, cioè non è che una volta i re e le regine incontrassero le rock star per far banchetto. I Beatles in quel momento erano al culmine della loro popolarità e influenzavano tutto il mondo. Quindi si decise di fare una cerimonia, ovvero rendere un momento indimenticabile per entrambe le parti, in modo da rappresentare un'occasione unica in cui la musica popolare e la cultura giovanile sono state riconosciute e celebrate da parte dell'establishment britannico rappresentato ovviamente dalla regina in persona. Abbiamo visto che la nostra regina è anche un'amante della tecnologia, infatti nel 1969 manderà un messaggio sulla Luna per commentare e congratularsi con gli astronauti per l'impresa svolta. Però non è che il suo regno è stato sempre rosa e fiori, il Commonwealth dava dei problemi, cioè nazioni conquistate un tempo dall'Inghilterra non si sentivano più a loro agio a essere regnati e volevano la loro indipendenza. Così nel 1975 ci fu una crisi costituzionale in Australia, il dismissal del 1975, dove il premier australiano Gog Whitlam viene destituito ovviamente dal regina in persona. Ci furono poi comunque molte polemiche e reazioni tra il Regno Unito e le altre nazioni del Commonwealth e però la regina, lo sappiamo, lei non si muoveva di un millimetro, quando prendeva una decisione rimaneva quella, lei era molto determinata. A proposito di tecnologia, nel 1976 è stata anche la prima monarca a inviare un'email, proprio per dimostrare come funzionava la tecnologia di rete. Nel 1981 subì un attentato, ovvero un ragazzino di 17 anni gli sparò durante una sfilata a cavallo sei colpi di pistola, fortunatamente erano a salve. Comunque il ragazzo ovviamente è stato arrestato immediatamente. È lo stesso anno dove il principe Carlo sposa Lady Diana, che diventerà poi la principessa di Galles. Nel 1982 ci fu un tentativo di intrusione a Buckingham Palace, ovvero Michael Fagan si intrufola nella residenza privata della regina ed entra nella sua camera da letto, mentre Elisabetta è ancora a letto, immaginatevi un po'. La regina, quando si accorge di quello che sta succedendo, per fortuna riesce a mantenere la calma, a chiamare la sicurezza che arresterà l'intruso. Nel 1992 è l'annus horribilis, ovvero c'è il divorzio di Carlo e Diana, quindi un grande scandalo, clamore mediatico, dove la regina dovrà mantenere sempre la sua posa, la sua determinazione, la rettitudine, proprio perché ha la corona in testa. In più ci sarà un incendio devastante al castello di Windsor. Nello stesso anno la principessa Diana muore tragicamente, questa notizia, lo abbiamo visto tutti, scuote il mondo e provoca anche una grande ondata di affetto per la regina Elisabetta, fino a quel momento criticata per la sua riservatezza. Infatti lei non si spingeva mai a dichiarazioni che potevano compromettere la corona, era molto attenta. Nel 2002 avvengono i 50 anni di regno, la celebrazione del giubileo d'oro di Elisabetta II. Divertente è stata una sua frase, quando ha visto la folla disse, ma davvero sono tutti qui per me? Era molto ben voluta dal popolo inglese, è innegabile. Nel 2008 la grave crisi finanziaria mette in ginocchio il Regno Unito e mette anche alla prova il bilancio e le spese della famiglia reale. Nel 2012 ci saranno i 60 anni di regno di Elisabetta II. Ecco, una curiosità, sempre nel 2012 alle Olimpiadi di Londra ci sarà un cameo di Elisabetta in uno sketch di James Bond, incredibile. Arriva il 9 settembre 2015, la regina Elisabetta ha 89 anni, ore 17 e 30, saranno 23.226 giorni, 16 ore e 30 minuti di regno di Elisabetta. E Elisabetta così supera il regno della sua Trisavora, ovvero la regina Vittoria, così diventando la monarca più longeva della storia britannica. Nel 2017 Elisabetta e Filippo festeggiano il loro settantesimo anniversario di matrimonio e la prima coppia reale a raggiungere questo traguardo. Purtroppo però nel 2021 il principe Filippo morirà all'età di 99 anni. Il matrimonio con Elisabetta è durato quasi 74 anni, ovvero il più longevo nella storia reale britannica. Nel 2022 ci sarà la celebrazione del platino giubileo di Elisabetta II per i suoi 70 anni di regno, lei ha 96 anni, è la prima sovrana britannica a raggiungere questa pietra miliare, quindi ci sarà una grandissima festa. Purtroppo però l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni Elisabetta muore. Ecco, a differenza di tante altre persone che hanno costruito da zero, la regina Elisabetta si è trovata in quella situazione e non ha potuto nemmeno opporsi. Ma cosa possiamo imparare dalla vita di una regina, della regina Elisabetta? Beh, cosa che accumuna tutti i personaggi che abbiamo esaminato fino adesso ovviamente è la determinazione nel portare avanti una missione, nonostante le condizioni esterne, condizioni che fanno di tutto per impedirci questo cammino. Per Elisabetta essere regina era più importante di ogni cosa, più importante persino della propria vita e della vita dei propri figli. Ha proceduto senza batter ciglio, con costanti passi e senza mai fermarsi nella sua missione per 70 lunghi anni. E questo ha permesso Elisabetta di essere la regina dei record. Ha visto e vissuto stravolgimenti, cambiamenti epocali incredibili. Ha sostenuto e a volte avviato delle rivoluzioni sociali, politiche e tecnologiche. Ed è stata anche una persona capace di adattarsi ai cambiamenti, ma pur mantenendo la stabilità della monarchia. Questo ovviamente l'ha fatto guadagnare l'ammirazione di molte persone. Ha affrontato con amore, serietà, determinazione e dedizione il suo ruolo di politica e donna. Ha sempre dimostrato grande impegno sociale e interesse verso le popolazioni che governava. Durante uno dei suoi viaggi infatti disse devo essere vista per essere creduta. A chi si straneva di fronte alla sua necessità di incontrare persone, salutare, stringere le mani. Lei, per essere creduta, doveva essere vista dagli altri. E questo lei lo sapeva e lo faceva, l'ha fatto con costanza per tutto il tempo. Oltre ad aver amato le persone e il suo popolo, ha amato anche molto gli animali. Soprattutto i suoi cani corgi, con i quali spesso la si vedeva, ma anche dei suoi amati cavalli. Nonostante le innumerevoli sfide, la regina Elisabetta II è rimasta una figura rispettata e amata nel Regno Unito e nel Commonwealth, affrontando con dignità e dedizione i momenti difficili. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, solito like, solito commento. Alla prossima!